H.A. Double Face ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Undertale Lielo che si apre con un'epifania, in realtà riguardando la intro di gioco non l'ho registrata perché non pensavo avrei avuto un'epifania guardando la intro di gioco mi sono reso conto di una possibile verità nel missing poster che Clover tiene tra le mani all'inizio del gioco quando si butta nel underground sono apparentemente rappresentate cinque persone quindi in realtà non stiamo cercando una persona sembra e aggiungo quelle cinque persone 5 non è un numero casuale potrebbe essere potrebbe rappresentare il fatto che stiamo cercando l'origine della scomparsa dei cinque umani che prima di noi si sono avventurati nel monte Ebbott e potrebbe essere perché noi siamo senza considerare Cara il sesto umano che cade nel sottosuolo in qualche modo immaginandoci che Cara sia stata ormai dimenticata dagli esseri umani quindi forse cambia tutto non siamo andati non siamo arrivati nel sottosuolo noi come Clover nei panni di Clover per cercare una persona cara che abbiamo perduto siamo venuti per venire a siamo venuti qui per venire a capo di un mistero perché le persone scompaiono quando arrivano sul monte Ebbott cosa si c'è là sotto e lo stiamo scoprendo il fatto è di quale umano stavano parlando allora gli NPC i personaggi nel gioco quando ci avevano parlato di qualcuno più violento di noi che ci aveva preceduto quindi questo fa ancora un po' propendere verso la teoria che avevo formulato stiamo cercando una persona non più persone oppure semplicemente si stanno riferendo a uno degli esseri umani del passato questa è talmente banale che non te la commento nemmeno né positivamente né negativamente buonasera ste ben arrivato ti sei perso dell'uccubrazione definitiva io non sarò mai soddisfatto dalla luce perché non ce l'ho una ovviamente fatta apposta per il cazza fa qui no vabbè pace continuiamo allora io mi sembra di ricordarmi che dovevo guardare qua altra volta bambino non autorizzato individuato battene cosa mi vende vai via guarisce 30 hp questo ti ucciderà ho solo 6 g di idrogeno di monossido guarisce 20 hp non filtrato sporco cattivo ah vabbè mi sta cercando di dissuadere dal comprare questi oggetti in poche parole la macchinetta tenerina si ciao ben ben arrivato in breve ben la nostra intro è stata riguardando la intro di underterriello forse non stiamo cercando una persona scomparsa stiamo cercando di capire perché 5 umani prima di noi sono scomparsi arrivando nel monte ebot perché il missing poster sembra presentare 5 persone e non una comunque tanto qua non abbiamo soldi per comprare nulla quindi gli daremo retta purtroppo saldi plastica popato chisps ok safety goggles uh per resistere alle spore avversarie ah si high rage powder acce 9 ah accessorio 9 difesa ti accecherà spero di no posso vendere? oh si riciclerò volentieri la tua spazzatura passa pure ma smettila ma le facce che fa sono stupende c'è pure la lacrimuccia la goccina di sudore bellissimo ho fatto il bianconiglio ieri a Bologna ho fatto contenta la bambina e voleva toccarmi le orecchie oh bene si questo questo distributore è molto simpatico allora perché 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 guarda guarda gli viene l'ansia sociale a parlare oddio 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 il tuo atteggiamento linea di codice 327 se un cliente è determinato come classificato quindi in questo caso come non autorizzato trattalo con il più grande disrespect quindi il minore rispetto possibile così che non compri gli snack della compagnia il mio stato di mancanza di rispetto è stato iniziato quando ho scannerizzato la tua faccia dull quindi tipo noiosa scema portami l'id di un impiegato delle steamworks la prossima volta che esperisci la mia la prossima volta per esperire la mia modalità ospitale o educata se vogliamo in questo caso fino ad allora puoi sempre comprare gli oggetti ma farò a pezzi la tua autostima mentre lo fai questo è molto carino come come idea e come concert e come realizzazione anche perdente le steamworks beh e quindi le steamworks sono le migliori in termini di scienza mostruosa e ingegneria niente di che strutture costruite dall'acciaio più resistente e dalle menti più grandi capaci di dire la loro anche di fronte al test del tempo in particolare diversi millenni al passare di diversi millenni cercando una cercare una struttura più avanzata sarebbe come cercare l'angolo in un cerchio con macchine di qualità come me stesso ad ogni angolo le vite sono migliorate ogni giorno che passa le steamworks domani significa la superficie si è vero questo slogan l'abbiamo trovato molte volte non sono una macchina di propaganda il mio creatore si è assicurato che io lo specificassi axis il robot che ci stava scanning bellissimo sto cercando un certo axis nel database axis modello più recente 014 non mi ricordo se era quello quello che cioè se il nostro modello quello con cui abbiamo fatto amicizia era il 14 non mi ricordo si tratta di un robot costruito per comportarsi come una guardia reale scopo della produzione creare una armata di robot guardia axis asse per proteggere i mostri dall'umanità ok stato di produzione dismesso queste sono tutte le informazioni che ho su questo robot quindi effettivamente c'era un piano di costruire dei robot per la difesa dei dei mostri ma che non è andato in porto fino in fondo perché non si sa la lava ha preso il controllo di questo posto in qualche modo è successo qualcosa in questo luogo di molto spiacevole che gli ha fatto chiudere i battenti definitivamente e probabilmente molte persone ci sono anche persone, mostri ci sono rimasti secchi se potessi essere utile cosa che non sarò se avessi voluto essere utile cosa che però non voglio essere ti avrei raccontato ti avrei detto di chiedere ad un ingegnere nell'ala fabbrica più informazioni dov'è l'ala fabbrica? non te lo posso dire non sei autorizzato non che io mi fidi circa il fatto che tu la possa trovare da solo senso che dato che sei sinso dato che sei infatti un idiota snack i miei snack sono seguono gli standard più alti degli steamworks mi assicuro che gli impiegati che o meglio le pause pranzo diciamo le pause pasto degli impiegati disegnati siano il più godevoli possibile grazie alla mia popolarità spesso finisco le mie scorte però che vengono restoccate ogni lunedì alle 8 questo mi ricorda il mio ultimo boot up il mio ultimo avvio ieri era di domenica il dottor ro dovrebbe fermarsi qui da un minuto all'altro non vedo l'ora di che arrivi quindi se questo robot avesse ragione probabilmente mi dirà tra una riga che ha perso anche lui il clock interno e anzi forse immaginando che questa cosa abbia senso se è il clock che abbiamo trovato l'altra volta a mandare un segnale cioè a decretare l'ora per tutte le macchine in questa struttura in realtà si sta sbagliando e non si rende conto di qual è l'ora esatta però se avesse ragione dovrebbe essere circa un lunedì ore più o meno 8 quindi ci siamo incamminati verso il monte Ebot verosimilmente di sera durante una domenica sera che in realtà potrebbe anche starci perché magari dici passo la mia settimana lavorativa scolastica con gli impegni in generale e la domenica sera faccio un viaggio per cercare di scoprire la verità riguardo alla sparizione alla scomparsa di alcuni esseri umani perché non pianifico necessariamente di tornare o pianifico di tornare con una storia incredibile ma forse sto overthinkando veramente troppo però niente di tutto questo ti riguarda giusto? sì ciao grazie di nulla che mi dicevi te? vai avanti urla pure se qualcosa cerca di fare del male cerca di 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 prenderti la vita il necklace me lo tengo perché è un oggetto chiave potrebbe tornarci comodo ah io tra l'altro giusto la prenderò questo questo no diciamo così macchie d'olio but non macchie di sangue is the blood we don't know allora that bot is just like me for real se riesci a trovare quel tesserino dimmelo che tesserino quello ha del ok sì il suo niente di valore in questo in questa spazzatura una vecchia bottiglia senza messaggio dentro il messaggio è chiaro monsters have no blood foro lui no e no farlo apposta oggi un id è vero ok per riuscire alla caccia è il 14 perfetto traccia corrente si chiama the corner of a circle la prima metà mi piace un sacco sì 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 il tesserino id della macchinetta sì sì ugps ma dai attento clover non vogliamo mettere allerta a nessuno che venga dall'esterno specialmente quelli che lavorano per asgore come l'ugps e la sua posta dovrà aspettare va bene peccato ma ciao cavolo se sono felice che la signora volpe ti abbia lasciato camminare libero per un po' non essere in grado di parlare al mio amico è stata una tortura ma ora che ci penso io per questi momenti posso fare così no non è abbastanza alto come si fa aspetta così flaui gaming flaui gaming top test bottom test ok ora so che lei ti ha accarappiato in una specie di detour di non conosco le parole inglesi li detour in qualche laboratorio però ti ha fatto lunga la strada diciamo su via mostri prigionieri ma qui si parla di cospirazione voglio dire è come se tu non volessi seguire i miei consigli ricordati la tua vera missione clover fermi aspetta ha confermato la mia teoria ha appena confermato la mia teoria flaui madonna ragazzi ma che culo ho avuto a riguardarmi l'intro proprio stasera avere questa intuizione e ad avere flaui che me la conferma ma quanta cazzo io lo sa flaui soprattutto lui ha preso il poster e lo ha esaminato vabbè dicevamo diciamo così ok i cinque bambini che perché stai cercando fin dall'inizio sto dicendo non c'è bisogno di visitare quel laboratorietto sai no Asgore è ancora là fuori che minaccia le vite di quegli umani mantieni la testa sui tuoi obiettivi questo è il nostro viaggio non quello di Seroba ehi aspetta un secondo ma io aspetta penso di essere pronta a rimettermi in marcia fra wikatemus fra aveva preso controllo della stream esatto vai guidami pure tu quindi avevo ci avevo preso stiamo qua per scoprire cosa è successo ai cinque umani prima di noi non stiamo cercando una persona ma allora chi sono oh mamma mia di quali di qual essere umani in particolare parlavano i mostri non si sa senti qua l'erba di Flau ah si la migliore no dicevo no scusate sta un po' sereno su con la vita Flau allora Gothic è venuto per condividere un po' di suoni è venuto qui per condividere un po' di suoni check attacco 12 difesa 8 la musica guida l'atteggiamento questo è per tutti gli umani là fuori che sta facendo ah ti danno una protezione gratis ma poi ok Gothic comincia a girare in cerchi erba vibe provi a goderti la musica ma non riesci a stare al passo se non puoi stare al passo arrenditi non mi arrenderò muore ah è se roba probabilmente che mi dà la difesa certo ha senso bella come cosa ok Gothic fa esplodere musica di battaglia dal suo becco vabbè loro continuano con questa cosa vabbè muovi il needle la parte che sta così sul grammofono di Gothic verso un'altra musica vediamo se almeno cambia ora la musica ehi aspetta ma che che stai facendo non ha funzionato e allora però cioè ah cazzo oddio chiudi i tuoi occhi e batti i tuoi piedi al ritmo di musica Gothic si unisce a te che bebello oh dai oh bello questo attacco molto intelligente peccato che abbia beccato un fatene così sfigato non leggo Stefano mi spiace quella era veramente tremenda allora ah ragazzi se volete visto che voi lo fate con me se volete alzate le mani al cielo domani ho l'esame ho la patente di guida insomma prova di teoria insomma sono abbastanza tranquillo ma insomma per moral support fate pure se volete aspetta forse c'è qualcosa qua giù che non ho visto no ok ah altro vapore fantastico ancora una volta dai crover ce la puoi fare allora non è lo steam ma non è il vapore quello che discrimina ma il colore della pedana quando è rossa non ci si va negli altri casi si ok ci ho fatta minchia per un pelo merda sono spaventatissimo ok va bene ma questa musica da ascensore ok catema ti benediciamo passerai la roba scritta di guida e appena avrai la patente ci porterei tutti a trossare giochi si vai così ci schiantiamo tutti in una volta sola e moriamo felici e contenti tutti insieme il collo che non decolla ah no che non colla ok bene se roba direi che mi devi tipo 100g per il servizio comunque c'è della roba strana nascosta qua in giro o no invece giandroid strolls up whistling apc questo mi sa che l'abbiamo già trovato tra l'altro facciamo fotocamera a sto giro no vabbè vediamo l'inglese porca puttana dall'inglese all'italiano grazie giandroid si avvicina fischiettando una melodia acuta ah grazie vuoltre tutto il resto giro forse devo farlo così perché va molto meglio sembra fai una domanda chiedi a giandroid qual è il suo obiettivo principale pulir voglio dire aiutare germe a conquistare il mondo ok questo attacco non me l'aveva fatto l'altra volta allora giandroid butta la spazzatura da questa e dall'altra parte hot chocolate pop mangiato ha il sapore distinto di qualcosa che una volta era caldo hai ricoperto 14 hp vuoi un sorso della mia dell'acqua del da pulire è appena fatta ma cazzo mi ricordo una sega non voglio morire non voglio morire oh dio santo ehm merda sono un po' finito il sapore distinto è qualcosa che una volta era caldo poi però è stato lasciato è stato lasciato freddare per troppo tempo non è un granché sei troppo pulito sporchiamoti un po' puttana tua non mi fa dire il parolaggio eh sono morto sono appena immaginato tutti noi in macchina ad accare che ci siamo scantati siamo disvenuti e mezzi morti sottofondo c'è caramel dancing oddio morire fa schifo vero vero quindi prova a non farlo di nuovo pom proprio bentornato ah grazie grazie tu non sei mai stato in macchina mia quando guiderai dobbiamo per forza entrare ognuno nella macchina dell'altro così raddoppiamo le possibilità di morte credo cioè non non so quanto convengo si si flauino amica mi devo rifare tutta ma ogni volta vado d'ora da un certo momento in poi del gioco se c'è una cosa che purtroppo non sono riusciti a fare benissimo è questa cioè bilanciare bene la presenza dei mostri perché all'inizio vi ricordate ce ne erano veramente troppi fino a snowding compreso poi hanno cominciato a metterli in punti strategici qui gli incontri sono super scriptati sono quasi delle mini boss fights mini mini boss fights sono ah devo mettere il needle cazzo non sei autorizzato a morire prima di me se fa l'incidente tu vedrai oh mio dio il tel era la cuffia che trasmetteva ma l'avete sentita anche voi l'ha fatta anche a voi che la musica c'era solo in una cuffia bellissimo sarebbe stato più figo sai cosa se magari il primo attacco fosse stato visibile ma se avesse fatto la musica poi ti avesse lasciato un secondo per capire cosa stava succedendo e poi ti avesse fatto vedere l'attacco poi per tutte le creazioni successive ti faceva solamente sentire la musica e te sulla base di quella ti dovevi spostare a sinistra o a destra ma senza vedere l'attacco a schermo così dovevi veramente basarti solamente sull'udito io ho solo una cuffia addosso quindi non sento differenza perfetto allora io direi possiamo andare a salvare visto che almeno così non dobbiamo rifare questa battaglia qua in particolare ma se roba le vede le stelline di determinazione qua oppure no boh ho l'ansia che non sento i miei chiamarmi eh ma magari sta giocando un sordo e non ci pensi i sordi no no per carità magari puoi chiederlo all'inizio del gioco però mi sembra ricordare però che ci fossero altri momenti in cui la musica era importante nel gioco ma non ricordo dimmi che stando qua sono al sicuro ok l'ho trovato come fischar come farlo no damage oh grazie a dio stelline quanto ci hai messo a scriverlo ma poi con una stella normale una lampe vabbè forse contro il calgador no penso si possa fare anche si si può fare anche senza musica la musica è un pelino semplifica però però si ah ma non era scriptato allora what the fuck ok però era sembra no no non era scriptato però forse è scriptato che tu debba avere un combattimento in questa zona con quel nemico lì I don't know man you've been seeing us lately comunque vedo che c'è una macchina statica che definisce il comportamento di questi affari perché diventano rossi solo dopo un tot che sei uscito da questo menu poi vabbè però funzionano uguale quindi è solo una cosa di sprite non franco grazie bene il mio orecchio da fnaf gamer ha sentito da inizio non so cosa hai fatto tu ma davvero ne hai beccati un fottino non ho idea di come mi hai fatto a beccare così tante gente il gioco ha deciso che dovevo avere il let's play di Undertale Yellow più lento del mondo che poi questa è la undicesima parte mica è durato un sacco il gioco poi vabbè ogni tanto abbiamo perso tempo tra virgolette non giocando ma facendo altro qua c'è una faccina però ciò non toglie che insomma più di 10 parti maledetto te l'avevo quasi battuto no telegram no grazie John Doider ti trova troppo igienico fa così ma di qua non si può andare ma chi è sto posto è tutto congelato siamo passati dal magma al gelo holy mi aspettavo in 6 ore di finire tutto sì no infatti è incredibilmente lungo il gioco però non stucca devo dire non sta stoccando che cosa è successo qua spero che questa roba sia ok da toccare sì sembra di sì no comunque fa veramente troppo Resident Evil sembra che siamo arrivati all'Umbrella Corporation un robot ormai è andato credo è molto più silenzioso di no Grown Over vecchio però non penso è molto più silenzioso di quelli a cui sei abituato un robot adulto da cosa capisci che è adulto sono dei resti sono delle macerie non lo so gli servirebbe una bella pulizia allora dai un'occhiata in questa scatola e trovi un secchio di chiodi li prendi? sì sono proiettili immagino sì piccoli pezzi appuntiti di acciaio trebbero essere efficaci se sparati ad alte velocità vari tipi di piante si siedono sono riposte in diversi contenitori l'odore è poco naturale qua qualcuno ha fatto degli esperimenti però noi stiamo comunque cercando di andare a parare da Alphys praticamente e dei suoi esperimenti sulla determinazione quindi sorprendimi Undertegliello cosa è successo qui alla divisione di scienziati della scienza al reparto scienza gli impiegati hanno segnalato che il generatore sta mostrando più stanchezza che mai giusto? può essere? più segni di usura ok segni di usura gli ingegneri prevedono che la macchina non durerà più a lungo di un anno da questo momento in poi ho bisogno che voi velocizziate il testing di sorgenti di correnti alternative cioè che testiate delle sorgenti di energie alternative l'intero sottosuolo dipende da ciò capo ufficio puoi quasi vedere una faccia nello schermo scusa mi fai rileggere? non abbiamo mai trovato problemi di energia in Undertale se non sbaglio ciao Jug ben arrivato non è neve allora Stefano abbi il coraggio di dire che cosa è secondo te dai siamo qui ad aspettarti come potete vedere sta cosa è bianca no? certo come la neve ma te dici non è neve cos'è? cos'altro c'è di bianco in Undertale giallo diccelo te la maglia di Seroba il capo non so come schiamarlo le anime dei mostri no è troppa polvere troppa polvere cioè vuol dire che qua hanno veramente fatto un genocidio massudiano no un genocidio di mostri cioè sarebbe assurdo ma è ovvio che non sono le anime dei mostri ok quindi concordi e perciò ci rivelerà la verità Stefano la magia di Seroba è fatta con sta roba ok il vibe visivo mi dà un sacco di change della colonna sonora mi sembra una grande mashup di reunited al finale della pacifist il tema del giardino sul tetto di The Witch House è un tema di All Light che non posso eliminare la maglia di Seroba è fatta la maglia non la magia di Seroba ok è fatta con sta roba ma è solo una teoria una gioco teoria per head office ah ok quindi questo è il dipartimento di scienza che sta rispondendo probabilmente sì ci sono più test in divenire sia biologici che meccanici non sappiamo quale direzione sarà infine la migliore per la razza dei mostri tuttavia il laboratorio di chimica ha fatto una una grande scoperta riguardo a una pianta bianca anche qua il problema sono le piante ok sì sì residentivo totale te ne parlerò più approfonditamente una volta che il test sarà cominciato divisione degli scienziati della scienza del riparto scienza eviti di toccare un po' di cavi esposti sulla sua schiena sembra più dimenticato degli altri sempre il riparto di scienza al capo ufficiale penso che ce l'abbiamo fatta le piante bianche si sono dimostrate capaci di generare elettricità a un tasso incredibile l'unico problema è che loro crescono quattro volte più velocemente di un vegetale norma normale forse c'era la elettrica non ho visto e una volta che la loro energia è consumata la trasforma in una sostanza appiccicosa e nera una volta esaurito il loro potere appassiscono wilt e appassire ok e una volta esaurito il loro potere la loro energia una volta che è stata loro sottratta tutta l'energia appassiscono in una sostanza scura e appiccicosa se questa è un'energia verde ci servirà una nuova divisione che provveda a queste piante no green lit è via libera ok se mi dà un via libera avremo bisogno di una nuova divisione che si occupi di queste piante altrimenti le condizioni di lavoro saranno molto difficili molto più gravi ah no the normal flora ok cioè della pensavo avesse introdotto la frase no no si rispetto alla flora normale crescono quattro volte più più velocemente wow un robot adulto questo sembra quasi che potrebbe tagliarti noti un piccolo cappello che si trova in cima a lui si è vero no non è troca ma l'ultima volta che mi sono trovato in un laboratorio pieno di furie roba appiccicosa bianca e nera penso di essere insorbito più tempo a guardare schermate di game over che riuscire effettivamente il mio intento what brocca le piante dovrebbero essere sufficienti come soluzione temporanea dovrebbero andare bene come soluzione temporanea ho sentito che uno dei nostri scienziati più rinomati sta lavorando verso un nuovo composto uno fatto di energia speciale potrebbe essere la chiave di cui abbiamo bisogno molto altro tempo però è necessario per svilupparlo come si deve per quanto riguarda la greenhouse division che mi avete proposto la divisione che si deve occupare delle piante ho un'idea che è più economica già partiamo male più efficiente questi due termini insieme sono la ricetta per una catastrofe vedi quello che è successo ora qua a Firenze e di cui ci si possa fidare ti manderò qualche progetto breve grazie per il tuo tempo e per le tue ricerche capo ufficio ecco progetti roll ed up giacciono nella scatola roll ed up quindi a volti diciamo attorcigliati mi è stata fatta questa roba qua non mi viene in termine dai un'occhiata oddio il boss guard guard ok giardina come cazzo si dice guardiano del giardino c'ha la delteron anche lui oh sono fissati in under the yellow con questa cazzo di delteron c'è anche in undertale ma non così tanto compare 2-3 volte in undertale la delteron bimbi compare fammi pensare sull'armatura di asgore sulla veste di toriel dietro a gerson o gerson più o meno ah si forse una volta al negozio della tipa di snowden però cioè non 300 miliardi come qua poi sarà anche che forse ora che esiste delteron ci facciamo più caso ma ho fumato la pianta bianca i want more no non so perché ma un debole per i gentleman gentlewoman molti punti in più si sono anche dei scienziati mezzi fazze quindi head canon di gaster subito mi sa economico ed efficiente sono due parole che non dovrebbero esatto mai stare nella stessa frase guardianiere ecco giardiniere grazie guardianiere ci sta guardianiere ci sta si approvo ci sta una volta erano in tribunale qualcuno ha detto vostro onore c'è una gallina e quindi vuole deporre fumati questo cazzo buono vero bene quanto siamo di minuti 986 bene manca poco ai mille minuti guardi dentro alla scatola niente di interessante vabbè vabbè oh cazzo di Buddha ma si può entrare no resident evil ma solo dall'apparenza di chi ho rischio guardi dentro la scatola trovi un po' di grassi fries le prendi si hai tenuto le grassi fries quelle di mo grande ok per ora tanti macchinari ma poco quid guardi dentro la scatola e trovi un po' di gravity granola la prendi si e invece no talk sento che il laboratorio si sta ah ma io potevo parlare con lei fino ad ora ma cazzo ma non lo sapevo vabbè sento il laboratorio che si sta avvicinando cioè sento che ci stiamo avvicinando il laboratorio forza porca miseria vabbè grazie no nails non mi interessano ok guarda torniamo indietro e parlo con lei in ogni stanza no qua dentro la scatola niente interessante che cosa è stato io eccolo lì eh lo sapevo oh mio dio ma quanto è mario e luigi questa palette ma è uno shrob sono svegno mio padre bellissimo sei adoro i robot mezzi distrutti che combattono porca puttana sono veramente sono veramente la mia cosa guardianiere modello 2 stato danneggiato oh salve siete stati voi che avete disturbato la flora vi chiedo di andarvene vi chiedo per favore di avere più rispetto ci scusiamo non accadrà di nuovo non ti preoccupare vedendo che il bambino è così giovane è perdonabile come cosa farò rapporto sull'incidente come livello 3 0 3 4 l e livello 10 di offensiva livello 10 significa terminazione del trampler la fine del calpestante non so palle adoro come per un momento hai parlato in buffering perfetto no aspetta addio oh mio dio oh mio dio qualcuno è riuscito finalmente a inserire a livello anche di lore la meccanica del tutto il menu bloccato ah cavolo sono bloccata clover dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione forza gardner guarda in basso verso di te muovendosi un po' a scatti bellissimo e lo sfondo è fotonico cazzo che bello bello il design bello tutto di questo robot bellissimo raga questa sezione è la mia preferita per ora tra i i robot dell'altra volta quello che abbiamo fatto noi è questo top poi lui si tiene con le braccia che figata ah ok non pensavo va bene ho reso inaccessibili le tue opzioni ti chiedo di cooperare con me merda eh cazzo però ok una grande ostilità sta germogliando allora in teoria ti verrebbe andare su act ma bisogna andare su item accetta bimbi qualcuno mi dà una mano a capire cosa vuole dire con trampler forse intruso non è accetta la tua offesa calpestatore è tipo accettate il vostro destino accettate il vostro destino intrusi non lo so ragazzi offense trampler cosa c'entra in questa frase wow ok allora guardianiere fa la guardia alla tua gabbia no 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 ho capito waters annaffia giusto perché sono tutti giochi di parole sulla guardia sul giardiniere quindi ti annaffia la gabbia ci sta ah tre ne vanno via ok devi imparare che la vita delle piante è importante più importante di te certo quindi stanno dalla pianta non mi fai danno una grande ostilità sta germogliando ok se non ti arrendi chiamerò aiuto molto bello però come ho fatto a schivare mi piace un sacco sa di lawnmower è il tagliaerba clippings non lo so pezzi di tagliaerba forse oppure intende proprio l'erba tagliata dal tagliaerba ok abbiamo gli oggetti quindi siamo un pochino più tranquilli ora tipo che calpesta le piante no non penso è il guardiano delle piante calpesta piante offense sarebbe colpevole di reato forse calpestatore calpestatore avrebbe senso considerato che ha calpestato i fiori prima di che hai calpestato i fiori prima di combatterlo ah ok grazie sì perfetto sì 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 ok ora mi torna giusto non l'avevo ricollegato che avevo calpestato i fiori sì quindi calpestatore perché ho pestato i fiori ok offenza sarebbe colpevole legato quindi ok cioè devo deve punirmi perché io calpestatore ho arrecato offesa alle piante questo mi torna grazie raga ottimo lavoro di squadra se li calpesti il giardino sto qui si offende lame di tagliaerba perfetto quindi sa di lame di tagliaerba conterò fino a 3 oddio santo cazzo fai uno spuntino con la gravity granola senti veramente 9.8 metri i tuoi hp sono stati massimizzati uno ah cazzo sono fisici ok gardner guardianiere colpisce con le sue braccia il terreno in agitazione 2 non sto bleffando wow bello 3 chiamo il backup hai chiamato per un po' di aiuto guardianiere corretto questo calpestatore non dà valore alle piante qual è il livello di offesa signore 10 terminazione livello 10 voglio dire ma certo ci ci dispiace colpevole il guardianiere dice che devi essere terminato lo sanno l'ho appena detto quindi attaccate ok giusto stanno peggiorando soltanto le cose non fermare i tuoi sforzi nel cercare di liberarci holy fuck ma bellissimi sono patati guardianiere guardianiere ti guardo vabbè sì ok check guardianiere attacco 12 difesa 12 intrappora i malfattori va bene per una semplice resa continua così continuate così oh oh non vi voglio fare del male non vi voglio fare del male ok però non posso fare altro merda teneri cucciolini luara handfull sarebbe tipo sei un grande grattacapo tipo ok grazie voglio adottare queste due creature per favore rimani nei tuoi confini no gesù lo farà di nuovo vero no ok sta sta germogliando una grande ostilità di nuovo forse devo semplicemente rimvelarmi da tutto spore bianche ok si muovono nell'aria ma ma questo suono non è di omori ragazzi sì sì secondo me devo liberare tutto quanto perché sono intrappolato ok perfetto perfetto così farò quello che posso per aiutarci a scappare ma che bravi avete ottenuto il mio rispetto ma non avete guadagnato la mia pietà robot attaccate lavoro adeguato grazie per il vostro aiuto nessun problema guardianiere sì chiamaci pure quanto ti serve solo anche solo per uscire un po' con noi oh no it's nbd no big deal non avevo mai sentito questa previazione ma sono fiero di me per essere riuscito a capirla it's no big deal non è niente di che oddio livello di offesa it's no big deal ok cos'è plaid o plaid implora gather e raccogli cos'è cioè strappola le cose da terra non andate restate con me io esco con voi no lovesinpoison.org allora facciamo un check di nuovo solo tu e io di nuovo peccato che non possa annoiarmi grow tired vabbè grow come una pianta per te intendo è un peccato madonna che hitbox di merda stai cominciando a pensare che ne hai avuto abbastanza delle fiante ok buono sono qui per l'attacco oh ehm si hai fatto tardi seriamente cavolo ehi va bene ecco tieni un fiore per tirarti su no vabbè ma è bellissimo io grazie ti spiace se attacco un pochettino beh fai pure oh porca troia ma che cazzo ma che è inferde cangio oddio c'è il mino laser questo stronzo siamo pazzi gardner twitches quindi si muove un po' a scatti ha un tasso allarmante non può non può farle bene o fargli no for hair quindi una lei ok fantastico non può farle bene allora gather proviamo ehm prendi un po' di fiori e li offri sul momento dovrebbe arrabbiarsi invece è troppo distratto sei ancora in piedi sei piuttosto pastiglioso ok sono tornati ste comunque sei contento porca troia io no ok implora implori il giard il guardianiere e sembra avere un effetto livello di offesa proprio in questo caso abbassato aspetta aspetta solo che il mio creatore senta di questa cosa avrai una lunga lezione una lettura una lezione più dolorosa di quello che ti sto facendo io vera tortura oddio santo questo attacco di merda antagonize mi sa che aumenta il livello di offense ti farà una bella ramanzina si ci sta vabbè ti darà una bella lezione ma c'è se faccio antagonize secondo me gli aumento il livello di offense quindi continuiamo a fare plead o plead non so qual è la pronuncia provo a convincere guardianiere di smetterla di lottare livello di offesa ha diminuito dopo ciò il capo ufficio ti darà una ricompensa eccellenza nel aver rovinato la giornata del guardianiere meritato no cazzo no madonna madonna ok tosto questo era bruttissimo allora questo dava 8 hp credo va bene arrenditi su via ok grazie dice al guardianiere che questo è solo un malinteso livello di offesa abbassato arrenditi forza ok è bellissimo il suo tema comunque chiedi al guardianiere di pensare riguardo a ciò che sta facendo livello di offesa abbassato ok ancora ormai forse il testo è un tell veramente per l'attacco che farà ci siamo quasi usi la ragione nella speranza di escalare la situazione livello di offesa abbassato aspetta tu tu io livello di offesa abbasso oh che è successo sembra esserci un un salto nella mia memoria chiave mi dispiace penso che questo abbia funzionato sei piuttosto intelligente nelle situazioni più intense sono impressionata allora il guardianiere si raffredda mentre un po' di vapore le esce dalle braccia sarebbe da provare tutte le vetraie al kill anche si è bellissima mamma mia che figata hai vinto 0 esperienze e 50 di oro buono è uno jorob comunque cioè un robot degli jorob totale stavo anzi vi dirò di più secondo me hanno proprio preso spunto dalla principessa jorob per fare questo mostro stavo giusto per fare qualcosa oh si ora ricordo mandare un report di livello 3 risposta negativa mi scuso permettetemi di chiamare di nuovo mando un report di livello 3 pronto creatore ci sei immagino che il mio creatore stia mi stia facendo uno scherzo pratico lo segnalo al capo ufficio delle steamworks la linea che stai contattando è stata disconnessa dove dove sono tutti no poverina ho ho permesso ah cazzo è pure colpa sua una sovraccrescita immensa capisco sembra che la mia giornata sia trascorsa cancella il report e ricomincia l'ibernazione sequenza di ibernazione iniziata mi dispiace per avervi rallentato non so come sia il mondo adesso e non desidero conoscerlo va bene ciao la vita era ma molto meglio quando non sapevo mamma mia e ci hanno messo pure un po' di filosofia dentro voglio abbracciare si pure io best personaggio vediamo di andare avanti best personaggio per vittoria undertelliello catema lei la gardner si gardner oh di nuovo sta musica 1008 eccoci qua crossroad i giochi horror sempre a destra oddio fino ad ora andando a sinistra abbiamo beccato la roba non principale quindi tellivis si sintonizza television ok tellivis attacco 12 difesa 12 non può vivere con o senza un altro can someone please shut mrs two brain up network tv yeah i do the work and net the process ma che non è vero non è vero non l'hanno fatto davvero e sono sicuro che succede qualcosa se colpisce l'angolo sono sicuro sono sicuro che succede qualcosa sono sicuro ti uccidenti la chat ti uomenti tutti insieme oh mio dio mi chiedo dove sia il puzzante per il muto guarda anche se questo è il tuo canale preferito televisio non è molto contenta dato che le trentenne sono tutte rotte le cassette vincono ancora una volta no non c'è niente in tv al momento oh cazzo oddio 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 me l'ho schivato telly viz ah perché sono uno è telly e l'altro è o l'altra è viz stanno dibattendo circa quale stagione delle quale stagione del telegiornale è superiore però la stagione è tipo tutorial ed non ha senso parlare delle stagioni delle notizie del giorno bellissimo segnale aiuti telly a rimettere a posto le sue antenne per trovare un po' di programmi oh ehi sto ricevendo del segnale oh l'ho visto oddio ma questo è l'attacco di oh cazzo odio i ritorni no ma usa gli attacchi ma le cilienci dove vengono fuori ragazzi ma questo è bellissimo ti sto annoiando no vicinino mi sta buttando addosso oddio il suono di uno statico della tv ti riempie la testa ok no basta non vuole più che tocchi è da un sacco che cerca di prendere il segnale ehi non rovinare il mio flow elettrico telly comincia a cantare l'opening di un anime vis la implora di fermarsi telly trova uno show che lei pensa che tu amerai ammetto che questo non è male guarda qui no vabbè ma ma è incredibile ma cazzo arola pentatosto in passi questo gioco alla fine telly bis spera che tu ti sia goduto il programma cioè abbiamo dovuto rimettere a posto le antene della televisione e poi guardarla bellissimo bellissimo questo nemico questo però mi consiglia che esatto si vada avanti da questa parte quindi tanto vale tornare in siamo stati lì perché c'era la televisione rotta forse ok come ho detto no rinse and repeat no niente non funziona è finita no è finita è finita ragazzi porca di quella puttana maledetta i'm dirtier daniel ora muoio se qualcuno vuole regalare i 5 sub tipo è questo il momento perché non so come ho fatto porca miseria è stata la roba più difficile che abbia fatto in tutto il gioco allora vediamo di prima di qua dai lol shortcut no avete rotto il cazzo basta ma quanto bisogna essere cattivi vaffanculo quanto sono forte quanto sono forte quanto sono forte la fusione sono tecniche per rendere forti due gemme perché fai citazione a steven universe non l'ho visto ma capisco comunque è una citazione dove siamo ah ok siamo qua basta pronti si può riattivare no meglio si si alla middle e poi vai dai noi li conosciamo questo è facile anche se si è arrivato il momento laggino non è nella live di catemino se non c'è il momento laggino fine dell'area vedremo io sono abbastanza sicuro che una volta finita questa zona finirà il gioco o comunque saremo molto vicini al boss finale vediamo certo ora mi dai soldi il maledetto eccoci qua due percorsi aspetta un attimo quel simbolo l'ho visto sull'uniforme di lavoro di chujin fammi provare uno dei suoi codici ma che ah beh ho solo un tentativo rimasto anzi ho solo un codice rimasto ma l'ho già usato proviamoci seriamente lo stesso codice della porta dalle dune con questo tipo di sicurezza non c'è dubbio che asse sia così vigile dopo di te e perché qua no? no il laboratorio di chimica lì sembra qui invece di robotica almeno dal simbolo sopra beep whoop bap esatto nessuno si aspetta lo stesso codice due volte in un laboratorio per avanzato la scala per il successo certo oh ehi salve un po' rugginoso il cartello dice se il receptionist non è recettivo controlla la stazione di controllo del robot che sta a tre piani più in alto stazione di controllo del robot clover stai pensando quello che sto pensando io axis asse esattamente se c'è una sorta di breaker box per tutti i robot dell'area possiamo spengere asse e andare e arrivare a hotland come pianificato ma non ce lo siamo lasciati alle spalle no l'abbiamo seminato mi sa non ce lo siamo lasciati alle spalle se riesce ad entrare nel laboratorio chimico gg io in due run non sono riuscito a muovere la porta di un centimetro secondo me è roba della genocide perché non ho idea di cosa fare ha senso che possa essere della genocide se non è di qui però occhiolino non mi anticipare il fatto che non sei riuscito a entrarci nelle tue run perché io comunque magari mi faccio l'idea che ci possa entrare qui e quindi comunque gioco condizionato dal fatto che potrei trovare qualcosa lì dentro cosa che al momento non so poi più probabile che mi scordi della sua esistenza un attimo dopo tant'è che prima avevamo trovato ah sì il robot che voleva l'id e non l'abbiamo ancora trovato e verosimilmente non lo troveremo però lasciatemi nel dubbio nel caso lasciatemi sempre nel dubbio a meno che una cosa non la si sia già trovata cioè a meno che io perché faccio le live separate no non mi ricordo che il numero del robot è 014 ma lo avevamo letto in quel caso ricordatemelo perché mi state solo rinfrescando la memoria su un'informazione che già ho ma se un'informazione non ce l'ho no vale la pena investigare quantomeno andiamo sì salviamo minchia che corsa la tecnologia diagonale ho fatto un robosepzionista congelato nel tempo ha un'espressione melanconica ok auguro a tutti un fine giornata produttiva sentitevi liberi di prendere di fare foto con le vostre creazioni dato che vanno lasciate alle spalle come grazie ancora una volta per tutti i contributi alla Steamworks questo è l'ultimo cartello che hanno lasciato tipo prima di andarsene non mi piace quel corridoio che bella atmosfera domani significa la superficie secondo me Tomorrow Minutes the Surface è una citazione a qualcosa comunque mi sembra non penso sia casuale ok la tromba di un ascensore vuota giace davanti a te molto bene convenienza non è mai stata nel dizionario di oggi comunque ci deve essere una scalinata qua vicino si infatti c'è aspetta ok Crowley really said I'm speed io ho iniziato una genocide per ora sono fermo perché giocare con la tastiera mi fa schifo io mi muovo verso il mio trono il cesso uguale ok io che non capisco come la gente possa giocare a Undertekon Controller no come let's me diversi cuboidi di di carta giacciono accostati tutti all'angolo sono tutti vuoti la belt quindi il nastro trasportatore sembra quasi come se stesse aspettando di trasportare qualcosa ok conveyor belt belt convey certo è come se il nastro stesse aspettando di trasportare qualcosa ok vabbè porca miseria questi giochi di parole inglesi sono cioè o li capisci o non li capisci meno male che questo l'ho capito buongiorno impiegati delle Steamworks spero che siete pronti per un altro giorno di produttività oddio ma questo sono io oggi inscatoleremo e manderemo i beni nell'underground letteralmente quello che faccio io con la tesi e che ho visto l'anno scorso al convegno cazzo e ci hanno spiegato proprio come fanno i pacchetti amazon come fanno a mettere le robe dentro come fanno a selezionare la scatola che c'hanno il nastro trasportatore davanti porca miseria salve sei un sei senziente oppure una voce registrata ciao nuova assunta sì sono pienamente senziente intrappolato in questo rettangolo di dimensionare per l'eternità giusto puoi sbloccare tutte le porte in questa fabbrica ci siamo siamo un po' di fretta scusa scusa ma ogni mattina facciamo una piccola cosa chiamata guadagnare la tua libertà completa una spedizione intera e avrai via libera ma che razza di politica è questa quando c'è una quote da raggiungere l'etica va fuori dalla finestra non hai mai lavorato per qualcuno prima d'ora ma certo ma non lavoro qui quindi non dovresti essere qui in quel caso va bene faremo il lavoro crover questo robot potrebbe avere delle connessioni ad asse sembra che dobbiamo fare quello che ci chiede per evitare attenzioni indesiderate puoi lavorare con questo affare giusto tra l'altro ora che ci penso questo minigame che si prospetta mi ricorda uno di diverto sempre a trovare connessioni non c'entra una sega ma che il mio cervello va è Poké Park 2 il mondo dei desideri che gioco incredibile mamma mia io quando avrò un po' di tempo libero me lo rifaccio da 0 a 100 premi il bottone d'inizio e togliamocelo dalle balle fondamentalmente qual è l'idea che cosa stai facendo metti gli oggetti rossi nelle scatole rosse e quelli blu in quelle blu ok 3 strike e sei fuori la tua macchina è rotta la seconda il secondo nostro trasportatore non si muove no si è rotta no vaffanculo trovo detto così crover metti le cose nella scatola e io le butto al loro posto lavoro di squadra no? qualcosa del genere come si fa questa in genocide ecco allora ha senso effettivamente pensare che si debba andare dall'altra parte visto che qua servono due persone proviamo un po' sono curiosissimo della genocide ragazzi vedremo A B ok mamma mia questo non è nulla cos'è quell'otto? questo non è niente teoricamente almeno sono troppo forte minchia nemmeno uno strike però it's gonna need to be fatta i revolveri oh perfetto ottimo lavoro clover facciamo qualunque cosa ci attenda ok potevamo forse far odolare anche un pochino di più con più pulsanti non so il robottino blu da in scatola non l'avevo mai visto io me la cavo a tastiera con giochi che tutti fanno col controller e con il controller giochi che tutti fanno con tastiera se non capisco più se sono tutti perdotati o se sono io a fare schifo complicandomi la vita beh finché ti trovi a tuo agio direi che va bene no facci ne sorride ok bussi sulla struttura di acciaio fa un eco profondo il clanging è tipo il suono del metallo credo accidente sfortunato mi fa mi fa un po' senso questa cosa dopo quello che è successo in questi giorni cazzo era uguale divertimento ok concentriamoci su questo ciao di nuovo la spedizione è quasi completa un ultimo passo e potresti avere la password per uscire tutto ciò che devi fare è si ordinare tutti i pacchetti ordinati mettendo la piattaforma a destra a sinistra abbastanza ovvio ma guarda chi ha fatto attenzione durante la lezione di apprendimento dei colori all'asilo beh non ho avuto scelta ok io sto in basso lei sta in alto bene bene ok andiamo bellissimo no ah ok quindi ho avuto il culo le prime due volte che il color la pendenza che avevo scelto fosse la stessa della scatola che stava per arrivare ok lol stava per diventare un disastro fio torno speto giù minchia ottimo lavoro non potete dire steamworks senza lavoro di squadra neanche senza bistecca ma quello non c'ha nulla a che fare con questa situazione vediamo come siete andati calcolo ah ce l'avete fatta a malo appena ma è a questo che serve un performance report ma va a cagare vai ehi non è colpa nostra se questo sistema è così poco pratico perché ci vogliono due giganteschi passi si vabbè step per inviare un po' di pacchi non potevamo fare questo lavoro prima quando li abbiamo anche prodotti capoletti oh beats minolo sob sai per essere stato costruito da menti così geniali lo steamwork è fin troppo convoluto complicato ci vuole un quoziente intellettivo enorme per comprendere la complessità delle steamworks il tuo cervello probabilmente non è abbastanza avanzato dice la gif montata al muro composta di tre pixel sai cosa puoi prenderti la tua piccola password e che sta facendo perché mi tiene la mano così erano bellissimi quegli sprite no piccino crover le ha fatto no smetti dai che lo fa arrabbiare no che carino dacci il codice e basta ah ma certo la password è 2269 chiaro 2269 si grazie no grazie a voi impiegati grazie per aver reso l'underground un po' più luminoso ma che carina con l'interazione bellini sprite appena ha fatto danni da fuoco se roba se roba being fucking savage today ancora cibo nella spazzatura vabbè la macchina blu guarda quella rossa come se avessero una rivalità una gigantesca macchina rossa che si fa gli affari suoi ah ok 2269 che sarebbe successo se l'avessimo sbagliata mip o piano di fuga di emergenza per i metalworks in caso qualcuno dia fuoco alla stanza non utilizzate l'ascensore evacuate fino al piano 01 o utilizzate una password per accedere al piano 03 hanno veramente stretto questo posto di brutto beh se la password si trova vicino al primo piano diamo un'occhiata in giro lunghissimo lunghissimo sto posto eccovi qui no dai veramente vuoi fare questa cosa di nuovo si ti ricordi l'esplosione che ti ha reso incapace prima si ora ho però delle mani nuove sono inarrestabile ascolta ad un certo punto devi anche non non fate più resistenza rimanete fermi immobili e lasciate che le mie meravigliose mani brillino cazzo è inciampato vicinino no crover da questa parte non ci può è inciampato sul cavo la mia visione ma perché c'ha un cuore lì che è veramente uguale a quello di un essere umano non può essere una cosa a caso vero inizializzazione della lampadina della super lampadina a 16 volt più che lampadina si è torcia elettrica 95% dell'energia utilizza oh mio dio si ti prego è tipo la challenge di anti-birth che non ha mai visto la luce perché è così il coso cosa intendi oh non va bene perché è così il textbox vabbè diversamente da loro io ho degli occhi non ho capito ok dobbiamo stare esatto bellissimo fuori dalla sua visuale e tenerci in silenzio ma ciao di nuovo cosa state facendo è bellissimo ho fatto sto sprite solo per questa cosa è meraviglioso è meraviglioso come stavo dicendo ci deve essere un codice qua in giro quando l'hai trovato vai verso l'uscita 60g minchia grazie la macchina eroginita ah cazzo non si può leggere è vietato leggere trasformava l'oro in monete non funziona più tante pietre simili niente ti cattura l'attenzione e così no 0 4 ma è bellissima questa parte di gioco b2 oh merda 82 no c2 ah ok 1 questa è una d 2 1 2 2 4 molto bene ok andiamo su prima che asse salve asse proprio il robot che stavo cercando come stai oggi come stai in questi giorni non così bene posso parlare solo in 15 caratteri massimi potevo parlare solo in 15 caratteri massimi laggiù mi ha fatto un po' schifo mi ha buttato un po' giù mi spiace sentirtelo dire sono contento che tu sia riuscito a riottenere tutte le tue capacità linguistiche grazie mi piace mi piace parlare aspetta aspetta stai cercando di distrarmi dalla mia missione no ah ok posso chiederti sfratti una domanda che ha a che fare con la sicurezza delle steamworks si io sono un esperto di sicurezza perchè alcune porte richiedono una password per essere sbloccate e altre richiedono uno steamwork id autenticazione a due fattori che cazzo questo è l'episodio più bello del mondo fino ad ora io li a oro anche io li a oro è bellissimo figo oddio postazioni di lavoro what the what is that ok beh probabilmente un altro codice da trovare ragazzi ma questo gioco è immenso c'è modo di fare una donazione a questi sviluppatori perché se la meritano cioè hanno fatto veramente troppa roba per non essere pagati anche solo un minimo sai com'è no? cioè mi sento sporco a giocare questo gioco senza aver pagato bullet points bullet points allora non so cosa sia un bullet point proiettile punto linee guida per un robot d'aiuto uno ogni manifatturiero scusatemi ogni robot creato costruito deve avere installato installate delle funzioni pratiche una funzione pratica installata uno scopo per esistere che sia cucinare pulire agricoltura eccetera due i robot dovrebbero avere un tier di emozioni per integrarsi al meglio nella società codificare una personalità in ciascuno di loro è raccomandato li rende più personalizzabili sì personali e facili da avere intorno tre tutti i bot hanno una forte connessione con le cose che vivono per esempio i loro creatori i mostri medi altri robot eccetera se deprivati di ciò alcuni potrebbero agitarsi un sacco e potrebbero uscire di fase dipende dal modello oppure potrebbero uscire di fase ma dipende dal modello quattro se il robot si comporta esce dalla sua linea o malfunziona deve essere spento tipicamente un hardware reset funziona ok quindi ci sta spiegando perché il robot si comporta in un certo modo la terminazione è proprio l'ultima speranza se uno shutdown non è possibile può essere riportato comunque al suo stato normale coaxed riallineato forse 5 assolutamente nessun robot gli è permesso uscire dalle steamworks in questo momento fino a che reasgore non sarà pronto a cominciare la produzione in massa questo progetto è classificato 6 soprattutto ricordatevi di divertirvi no questo era il leitmotif di delta non però c'era c'erano le prime tre note ora resto qua affinché non lo risento presto mister perché ora c'è un punto di salvataggio quindi sarebbe anche un buon momento per smettere però non penso vogliate sembra che ci stiamo infognando in qualcosa di classificato di riservato qui hanno abbandonato un sacco di roba uffici avete sentito? un vecchio pc si siede su due desktop su due scrivanie l'immagine sullo schermo ti dà una sensazione di nostalgia non è quello di windows quindi wow un sacco di post-it no si si di post-it si trovano vicino al pc al pc al pc distrutto abbiamo rimpiazzato il tuo computer sei volte ormai per favore controlla il tuo umore è solo solitario questa è la postazione di pen la nota sul pc spento legge il futuro è luminoso tieni duro il giocatore solitario posso affermare che questa è la partita più tranquilla mio nonno giocava un sacco a solitario mamma mia penso abbia fatto 10.000 partite ma anche di più downsizing imminente ora invece è passato i sudoku ma di certo cioè licenziamenti imminenti ma non per l'impiegato che sta leggendo questa cosa ti sta facendo un ottimo lavoro deve essere l'ufficio del manager certo che aveva accesso proprio a tutte le password controlliamo questi file cabinets tipo i contenitori come si chiamano i mobiletti insomma con i file dentro esatto guarda un po' qua report sulle performance di tutti gli impiegati della fabbrica a e sta cercando che succede? l'hai trovato? allora sarà 16 gennaio 2000 Mr. Shujin ha presentato i suoi progetti per un robot di guardia o una cosa del genere ha chiamato il progetto Asse questo era reunited quasi si 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 è un remix terrificante 19 marzo 2000 qualcosa il modello Asse 1 e noi siamo al 14 è stato presentato al re Asgore ma è stato velocemente rifiutato il poveretto non poteva rimanere acceso per più di 6 secondi 10 maggio che ansia il modello 4 si è ribellato e ha lanciato uno dei suoi guanti al re questo si sta facendo imbarazzare 23 luglio il modello 7 si è rifiutato di entrare nella stanza del trono Asgore però ha dato a Shujin un'altra possibilità dopo che lo ha implorato incessantemente so che è un ingegnere intelligente ma se la prossima dimostrazione va male 23 settembre beh ci siamo il modello 8 è stato avviato e sembrava stabile per un momento almeno fino a quando un malfunzionamento non ha avuto luogo e scintille hanno cominciato a essere emesse dal corpo nel caos una scintilla ha raggiunto il letto di fiori di Asgore è scoppiato un piccolo incendio che però è stato subito contenuto per favore vattene vattene e non tornare mi dispiace molto ma come ma per come siamo ora noi mostri non siamo pronti a superare la barriera lo sai anche te nel profondo lo so che lo sai Asse è la soluzione di cui hai bisogno la soluzione di cui ho bisogno è una affidabile perché hanno dato dei colori che tornano perché però una che non darà fuoco alle nostre case se questo riguarda il mio no non è così ti ringrazio per tutti i servizi che hai portato alla nostra società ma temo che la libertà dei mostri appartenga a mani più capaci bravi nello scrivere i dialoghi di Asgore comunque non era per un cazzo facile scrivere i dialoghi di un personaggio che compare sono alla fine del gioco mani capaci dice ma guarda Axis adesso a se adesso la vera realizzazione della visione di Shujin e quindi ora non vorrà più distruggerlo e cede di gran lunga ogni modello che Asgore abbia mai visto e sai a chi appartengono adesso queste mani capaci? la scienziata che ha Kanako la dottoressa Alphys bella backstory che hanno costruito bravi bravissimi tempo fa anche lei ha costruito un robot uno che sembrava così vero merda è vero non l'avevo collegato grandi bellissimo collegamento bravissimi ed è la seconda volta che lo dico grandi minchia hanno fatto veramente il possibile per far tornare tutto ottimi scrittori quelli di Ander Telliello bravi bravi davvero sono stupito sono genuinamente stupito uno così simile alla vita reale che le ha permesso di ottenere la posizione in cui si trova adesso si è un po' barato da quel punto di vista perché non è un robot al 100% è il corpo di un robot ma dentro c'è un essere vivente comunque rotato di coscienza un fantasma che nella lore cioè diciamo concettualmente è anche un tipo di mostro e di creatura che possiede tra l'altro gli oggetti quindi deve essere stato proprio impressionante così impressionante che Asgore ha calciato via gli altri visionari dal posto ora capisco perché Shujin non ha mai condiviso tutto questo con me deve essersi sentito a pezzi sentendo queste parole chi se ne frega cioè accidenti ai reali la politica e tutto il resto questo Clover questa è la missione e questo è il motivo per cui la missione è così importante non puoi fidarti di questi raccomandati chiusi di mente affinché facciano qualcosa di buono neanche per un istante andiamo poveretta Shujin era un mostro pieno di segreti lo sapevo già avrei solo voluto che fosse più trasparente con le sue difficoltà avrei potuto aiutarlo avrei forse tutto questo questa situazione non sarebbe così come se non avessi assunto così che tutto andava bene e avessi fatto veramente attenzione avrei lo so ho appena detto che non ci avrei rimuginato bisogna vivere nel presente e pianificare il futuro è questo che Shujin faceva sempre ed è quello che devo fare anch'io wow bello bravi hanno approfondito una parte che effettivamente in Undertale veniva lasciata un po' scoperta cioè quello che provano i parenti delle vittime di Alphys diciamo che è una parte che in realtà viene approfondita alla fine della pacifist proprio comunque stiamo per chiudere la live è una parte che viene approfondita proprio alla fine della pacifist però in maniera molto positiva cioè alla fine ha un riscontro molto positivo in realtà tutta la storia serve a giustificarti un pezzo importantissimo della lore ma anche soprattutto per cioè ma anche per dare un redemption arc ad Alphys ok la password dell'ascensore di oggi è 7345 Richter B. Oni ingegnere certificato no aspetta Dio Bono niente non finiamo la live un cazzo volevo mettere la password e poi tornare indietro ah ciao vi tol benvenuto nel mio corpo dove vorreste andare? il piano in cima hai per caso detto basement basement 1 si vuole far giocare a Isaac cazzo portaci sul soff... al... non al soffitto al tetto fuori di qua dai ho una opinione negativa riguardo a te mi sto portando fuori da qui vabbè fai come ti pare basami seconda run moment ah scusami per tutti gli sprazzi d'ira tutta questa cosa è troppa da processare questo suono non mi piace scommetto che sei piuttosto stanco di imparare cose su di me quindi parliamo un po' di te non sei proprio una persona a cui piace parlare quindi non so molto perché sei qua in primo luogo? hai semplicemente fatto un viaggio e sei caduto nell'underground sono curioso i cinque umani capisco quindi vuoi scoprire che cosa è accaduto a questi ragazzini una missione nobile ci vuole fegato io assumo che tu ancora non li abbia trovati dunque siamo arrivati fuori di qui bene muoviamoci allora fa che ci sia un salvataggio posso tornare giù? no basta più semplice del previsto buona notizia per te ho finito tutte le battute che avevo in serbo però ho ancora quello in croat bene possiamo chiudere la live alla fine sono pure riuscito a tornare qua quindi ok neanche salviamo va bene allora apriamo discord della discordia che poi io dopo questo prima di andare a letto devo fare la seconda palestra di blaze black ultima che è di buono se non la batto adesso l'enora di merda non la batto più scusate ma ok allora qua esatto ah ci vuole la musica ho chiuso la no ci vuole la musica pokemon orange vabbè faccio così bene allora disegni plus di oggi death me più uno sketch di men si immagino sia da rocino si vede cibi mist praticamente mi fa morire cioè perfettamente nell'art style che gli arti sono minuscoli tutto il resto è gigante fantastico mi sembra tu ci abbia un po' la bava alla bocca non so se era quello l'effetto che volevi dare oppure è parte del del design le stringhe alla error che stanno qua questo però comunque hai preso dai hai preso spunto da error sans per fare questa roba cioè perché non è possibile se no top colori comunque vabbè miku ovviamente tutte le reference a miku impressionanti incredibili bellini ce ne sono altri di qua no vero ok sketch si godo 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 l'ha fatto misto l'ha fatto godo in questo mondo oh godio sei goduto oh godio sei goduto e qui noi godiamo si gode è bellissimo coso coso tronic nator coso tronic nator è bellissimo è bellissimo vuoi un pupazzo di coso tronic nator è bellissimo l'hai fatto stupendo ma poi adoro che non hai fatto la fotocopia ma lo hai personalizzato gli hai messo le casse qui inclinate è stupendo è meraviglioso io lo adoro adoro coso tronic nator penso se lo metterò nella copertina di questo video perché è troppo bello che che meraviglia grazie mi sta bellissimo adoro adoro all'infinito è vero è coso tronic nator x x coso tronic nator x è bellissimo quindi ora dobbiamo fare la versione neo eh sì è roba della precedente live error l'ho notato solo dopo che l'hai detto tu ok le stringhe hanno un motivo abbastanza importante per me particolare ci sta allora la godura totale proprio cioè abbiamo preso picnic con tutta la roba picnic e non solo gli asciugamani i costumi ci siamo buttati nella godura in una card da giornata d'estate flauigaming si è flauigaming e gli sto parlando di te brutto strunzo mi mando la clip appena ricarichi bravo jug ottimo lavoro spoiler non l'ha mai fatto caramel dancing ando spoiler non l'ha mai fatto e mist è riuscito comunque riguardando la live non solo a sentire la mia richiesta ma a prendere il commento this is truly a community porca puttana caramel dancing non ce la faccio stasera hai fatto troppe robe oh mio dio morirò per mal di pancia dalle risate caramel dancing spring e tutti i morti che ci pregaste porca miseria che poi con con la barretta qui sulla bocca sembra quasi a me sembra quasi che stia mangiando qualcosa e c'ave la bava da quanto è buono buono sto vedo caster l'albero proprio direttamente si 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 preciso questo è fan guarda si vede dalle orecchie mi sa questo sono io e qui c'è mist probabilmente le stelline si esatto no questa sketch page mist è fuori di testa nella top 10 di sempre fenomenale cazzo che ridere porca miseria caster è spawnato in mezzo della strada si si ha fatto ehi posso finirvi un po' direttore un lore in this time e io si e siamo andati a sbattere oddio è bellissimo noi nella macchina slow ed più reverb pure aspetta tanto il video è quello che è perché la dama vita non sentivo la carameline dance ha chiaramente in mente di farla slow ed è più reverb why do I listen to this when I'm sad by the way what a banger video cool che ho trovato uh attenzione aspetta questo invece ve lo faccio vedere piripiripiri browser sarà lui sì forse no direi che non è questo è questo ah però giustamente aspettate pensate sia banale invece proprio una sega ok ah l'aveva questo l'ha scritto prima di quei post di delta run it's as if everywhere everything had been enveloped in a black wind però questo mi fa pensare alla genocide di undertale è proprio la fine questo comunque la cosa più vicina a gaster che abbiamo gaster erase the tweets well there was not a man here there is a man here there is not poi there was not questo è l'unico elemento sì che no vabbè è l'unico elemento arg di undertale e mi va bene perché è molto sottile e ci sta non dà fastidio io ce l'ho quindi ma non è vero no bimbi vi posso assicurare che con tutto il bene ma questo non si vede no questo questo se lo sono inventati questo mi dispiace ma vi posso assicurare che se lo se lo sono inventati se voi sentite è vero sì ah eh boh finché non ho delle prove non ne posso essere sicuro però la teoria che ah cioè vi dico una teoria così la tarot di gaster l'artista l'aveva fatta ma poi toby ha detto no 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 per carità toglila e l'hanno tolta poi da lì ha detto ma sai che quasi quasi posso rifarla sta roba e posso intenzionalmente mettere della roba di gaster che poi però sparisce in punto png sì sì questa l'ha sentita me l'ha detto ven però questo non è gaster bimbi al massimo un follower perché sennò fa troppo ridere che questo sia gaster questa l'ha detto ne ' il Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cara mamma e papà, vi amo un sacco. Ho attaccato documenti militari liccati dai forum di Blam Thunder. Al vi voglio tanto bene, se tu, se voi volete di nuovo vedere vostro figlio, per favore guardate il manuale di istruzioni allegato. Lettradiamoreperte.txt.vbs Un VBS? Non so cosa dire. Felice San Valentino al mio ex, ti ho sbroccato abbastanza a lungo da farti ricordare quanto fossi figa. Tovi, ma che scrivi? No, Tovi comunque ha una testa incredibile. Sì. Bellissimo. Tovi, ma cosa fai? Non sei pazzo. Bene, la sua roba la posso vedere, vero? Penso, se me l'hai mandata penso che la possa vedere. Cazzo dai, qualcuno l'ho fatta davvero. Farà WeGaming. Farà WeGaming? Mi sa che questa sarà la copertina. Sarà la copertina sicuro. Ieri ho ritorno da Bologna e disegnato sul tablet di un compagno doppiaggio e ho realizzato queste piccole perle. Condivido in modo che possiate... Vai, anche la sketch page di Venna abbiamo stasera, dai. Itza... Okard Cara. Ah, it's ok, cara. I've got the seven human suits. Va bene. Toriel che sembra quasi da Horror Tale. Decibat, fantastico. La win, no. Ti mangio la no. No, please don't. Cos'è questo, oddio? Questo mi inquieta. Questo è Gaster, sicuro? Questo è mini Gaster. Fun fact. La roba dei documenti liccati e tratta di eventi della meta caduta dei gruppi di War Thunder. Infatti, mi sembra averlo già sentito. Ora non mi ricordo cosa fosse successo, però ricordo di una roba legata a War Thunder a riguardo, sì. Sembra una Mogus. No, se te che ciò vuoi vedere. Doveva essere Sans, ma non avevo voglia, ok. Va bene. Figlioli, io vi do la buonanotte. Vado, ci siamo trattenuti anche troppo, ma sono contento perché mi sono divertito un botto. Ci vediamo domani sera con Dark Souls e mercoledì con Underteliello. Qua è tutto dal vostro catema. Ci vediamo nella prossima parte. Peace.